Futuro di Pogba e futuro di Llorente? Il giocatore vorrebbe un club più importante, sogna un ritorno in Spagna a Real Madrid, Benitez lo stima molto come vice Benzema, come alternativa di lusso agli attaccanti titolari, però da questo punto di vista la Juve non è arrivata un'offerta ufficiale. E Nino i nostri tifosi sognano e continuano a scriverci su Twitter Gazza Mercato, Nino senti, osilla al fianco di Chedira per la Juventus? Ci scrive Filippo e poi questa forse è un po' troppo grossa, possibile ritorno di Balotelli al Milan? Allora, parto con la seconda che è una risposta diciamo istantanea, no. Quanto alla prima, come giustamente diceva prima Nicolò, la Juventus evidentemente aveva sondato per Osil perché comunque è un giocatore che rappresenta nell'idea di Allegri l'ideale del trequartista. Temo che effettivamente sia a cifre molto elevate e poi lì c'è il solito discorso, deve prima uscire qualcuno per avere i soldi per poi eventualmente ritornare sul mercato, quindi per uscire qualcuno per prendere Osil deve uscire qualcuno dei pezzi grossi.